Sul sito web istituzionale del Comune di Sulmone è stato pubblicato l'avviso per l'acquisizione e la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di enti di terzo settore per i progetti utili alla collettività e i cosiddetti PUC con il coinvolgimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza all'ambito territoriale numero 4 Peligno per il periodo 2021-2023. Possono presentare domande agli enti del terzo settore, quali società cooperative e sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, nonché fondazioni iscritte negli appositi registri da almeno sei mesi aventi sede operativa nel territorio dei comuni dell'ambito Peligno numero 4. Le domande corredare dalla documentazione richiesta potranno essere inoltrate mediante compilazione dell'apposito modello e la scheda di progetto. Tutte le informazioni sul sito istituzionale www.comune.sulmona.acu.it I soggetti interessati devono essere in regola relativamente alla posizione assicurativa dei volontari e alla posizione contributiva assistenziale dei dipendenti e dei collaboratori.